Lotto zero. L'ANAS è pronta ad appaltare il progetto esecutivo della infrastruttura che collegherà il comune di Pesche a quello di Miranda, all'altezza dell'inizio della variante Isernia Castel di Sangro. Costo stimato 140 milioni di euro. La strada con due gallerie e otto viadotti si svilupperà per 5 chilometri. Tra favorevoli e detrattori il progetto è sostenuto con forza dall'amministrazione Civica Pentra che in esso ravvede uno strumento in grado di favorire lo sviluppo anche economico del territorio. È un progetto dell'ANAS, evidentemente voluto, ripeto, come dicevo prima, dall'allora anche presidente della regione Michele Iorio. Il comune è ente appaltante soltanto per il progetto. È un progetto già realizzato, evidentemente sarà cantierato nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Io ritengo personalmente che sia un'opera interessante per la città di Isernia, che possa vedere anche un certo tipo di sviluppo. Se noi consideriamo che la Fondo Valle Sangro proprio in questi giorni stanno facendo i lavori per togliere quel nodo che si creava a ridosso del giudice dove i camion e le altre autovetture erano costrette a uscire da quel percorso per raggiungere poi di nuovo la Fondo Valle Sangro, stanno facendo in Abruzzo quel lavoro. Quindi possiamo considerare che se dall'A14 fino al bivio di Miranda, dove abbiamo la statale 17 bis, si andrà a creare una viabilità sicuramente facile, una viabilità interessante, una viabilità che penso che ogni automobilista prende in considerazione. Non possiamo poi considerare che tutto quell'afflusso di macchine che arriva poi al bivio di Miranda, quindi alla fine proprio dove finisce la statale 17 bis, non abbia più sbocco e venga a riversarsi tutto in Isernia. Questo non è possibile, andremo a ricreare una situazione di viabilità, penso non proprio sostenibile. Il lotto a zero è quella strada che permette di bypassare Isernia e di far ricongiungere quindi la statale 17 bis a quella che è la SS 650 verso Vasto, la statale 17 verso Campobasso, la SS 85 verso Venafro. Se noi siamo bravi utilizzeremo sicuramente questo indotto per far crescere le potenzialità che Isernia può sicuramente vantare di avere. Grazie.